Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il ritrovamento dei baby Mario e baby Luigi che si sono uniti alla squadra E siamo entrati in questa nuova zona, il bosco Toadwood Ma ora dobbiamo entrare nel laboratorio, laboratorio che sta ciucciando la vita a tutti i Toad presenti E ci sono un bel po' di alberi cavi che nascondono oltre a dei nemici qualche piccola ricompensa che sicuramente schifo non ci fa Ad esempio questi jeans, che cosa fanno? I jeans mani nude aumentano l'attacco e fanno di chi li porta un pazzo incosciente Insomma, drop down di difesa e aumento sconsiderato di attacco Ma non lo so, non lo so se possono essere utili eh Aspetta, aspetta, aspetta Se li mettiamo a baby Luigi in realtà, quando facciamo il primo salto con baby Luigi e poi con Luigi il danno dovrebbe essere aumentato Ah, in realtà non è stata una cattiva idea Proseguiamo Eccoci qua Ci sono altri alberi cavi, sì Vediamo qua dentro Nemico? Sì, ovviamente Go, go, let's go Vediamo Quanto farà baby Gigi? Secondo me nove Ci ho azzeccato Tra l'altro ora abbiamo un drop down di difesa abbastanza considerevole, visto quello che abbiamo appena usato Cioè i pantaloni, quello intendo E ho sbagliato il tempismo Perché, allora, voi probabilmente non lo sapete Ma io gli schermi non ce li ho uno sopra e uno sotto come dovrebbe essere sul DS Ma ce li ho di lato per comodità Perché giustamente ti aiuta a averli in questo modo per la registrazione Per un gioco del genere diventa un attimo difficile vedere quello che sale di qua ma scende da questa parte Ma sì, dai Speravo molto meglio Speravo di ucciderli tutti con un colpo ma non è andata tanto diversamente, dai E Mario è salito di livello Facciamo la velocità, visto che non l'abbiamo neanche toccata C'era da aspettarselo Però anche Gigi sale di livello e, beh Un giro di velocità magari glielo diamo Yes, cazzo Che soddisfazione Prende quei quattro e soddisfacente Allora, 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 iniziamo Mannaglia Speravo veramente Di essere riuscito a colpirli Uno Due Uno E due Ha resistito più di quanto doveva Ecco fatto Vai, colpiscino Che palle Sto attacco Ha un tempismo veramente di merda Facciamo Sì, facciamo lui Uno Ok Uno E due Vai, colpiscilo Che palle per dei turdi per niente Dai Maledizione Uno E due Vai Luigi Uno E due Vediamo Dai Qualche oggetto buono piano piano sta iniziando a uscire Vorrei riuscire ad arrivare Come abbiamo fatto per Superstar Saga A 100 di baffi Non tanto Ok di qua non ci serve nulla Non tanto per Gli sconti o altro Ma per il drop rate Se riusciamo ad avere un drop rate Buono Possiamo comprare gli oggetti Uno a un prezzo più basso Ma due possiamo ottenere gli oggetti Dai nemici Il che ci fa ancora di più risparmiare Ah già Mi ricordo questa zona Ok Dovevo farlo coi bimbi Vabbè non importa Ho sbagliato Il tubo prenderà danno Ovviamente no Pessima 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 idea Ecco fatto E' stata veramente un'idea delle balle Colpiamolo E ovviamente io l'ho mancato Perché ho dei tempismi Sbagliati Ecco fatto Mario Ecco qui Vai da Luigi No va da Mario Riuscirò a colpirlo Sto maledetto Fantasma Il problema è che sta pianta piragna Ha un sacco di difesa Va bene Dai Almeno siamo riusciti a colpirlo In qualche modo Oh finalmente Vediamo Speravo meglio il premio Speravo nettamente meglio Allora aspetta un secondo Io ai bimbi A questo punto Fammi vedere Li tiriamo un attimo fuori Vediamo se prima riusciamo Ecco A mandarli di qua No Non ci riusciamo Allora Entrate dentro per favore Ecco qua Perfetto Vediamo Non mi ricordo se devo arrivare Prima in fondo Oppure basta arrivare anche qui No Dobbiamo arrivare in fondo Vabbè iniziamo Una tessera fuga Niente di eccezionale Però Speravo Già qualcosa di meglio Ok Qui c'è Un nemico Quasi quasi Lo lascio Qua Vengo a combatterlo Insieme ai bimbi Lasciate perdere Quello che ho appena detto Perché Missione fallita Va bene Colpiamoli con i gusci Almeno facciamo un po' più di danno In una botta sola Non riesco ad avere i tempismi giusti Dannazione Soprattutto poi i nemici sono Molto vicini a noi Quindi Rende il tutto A prescindere Molto più difficile Porca Di quella miseria Sampini almeno la frase Ecco fatto Riusciremo a prendere il fantasma Ottimo Benissimo Eccezionale Settecento monete Beh Qualche fungo spora Probabilmente riusciamo a comprarlo I funghi spora sono molto utili Sono davvero molto utili All'inizio Perché Quando non hai modo di curarti È il modo giusto Per avere un po' di vita extra Soprattutto durante la battaglia Neanche durante Neanche tanto fuori dal mondo Ok Presa Una moneta Due gusci verdi Oh Meglio che nulla E Ecco fatto Tac 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 Beccati questo Tornate qui Bimbi E Andatemi a prendere quel blocco Tre fiori fratelli Vabbè Come ho detto Meglio di nulla No Tutto fa brodo Dicono Compreso Uccidere i fantasmi Becciamoli Se solo avessi Dei tempismi giusti Allora Sai cosa Devo saltare Quando lui si divide Quando si divide È il momento giusto Per Colpirlo Uno E due Perfetto Niente pianta piragna Molto prima che si divide In questo momento Poco più avanti Però ci siamo E uno è andato Uno E due Tu Sei il prossimo Papara Papara Benissimo Speravo che i bimbi salissero di livello Va bene Non importa Curiamo Proseguiamo Ecco fatto Occhi tocchi Ora Troppo presto Uno E due Vai Gigi Uccidilo Uno Due Beccati questo Il fantasmino Ce la facciamo A questo giro Va bene Questo l'abbiamo lisciato Abbastanza Poteva colpirci Ecco fatto Niente più tubi In mezzo alle tube E Mario è salito di livello E non i bimbi Vabbè Forse Forse Aspetta Non cattiamo vittoria Troppo presto Non ci voglio credere C'erano 206 Lì C'erano 2006 E non ne abbiamo Zeccato uno Cioè Non è plausibile Però Preso tre di vita No No Ragazzi Qua lo rifacciamo Non me ne frega niente Io non mi prendo Quell'uno di baffi Vai ci sono tanti sei lì Puoi farcela Yes Che soddisfazione Dai Vediamo Baby Gigi Invece cosa può fare C'avrà anche lui Qualche sei Vedo tanti cinque Tanti quattro Ma niente sei Mi sembra Vai Mario Provaci anche tu Dai Un due Va bene Non è molto Ma Eh Meglio di nulla Dai anche tu Baby Gigi Da lui un sei L'ho visto Però ci sono anche Tanti uno Vai Provaci anche tu Con i baffi Ok Va bene Non si butta via Un due Si può accettare Tanto come ho detto I baffi sono Sì Una Una statistica Che voglio aumentare Non è la principale Diciamo Comunque Mario Che fa dieci Già di attacco Mica male Dai Sale di livello Anche Luigi Mi sa Di sì Perfetto Luigi non ha bisogno Dei Dei baffi Però Di sicuro Noi li buttiamo via Se gli esce un bel sei Vabbè Un tre Non è male Si può bene iniziare Anche da un tre Contando che Già qua Ci sono dei sei E Dicendo che In Superstar Saga C'erano numeri Decisamente Più bassi Beh non ci si può Lamentare Allora baby Prima vediamo Se qua c'è qualcosa Non c'è nulla Va bene Proseguiamo Verso il laterale Venite verso di me Forza Guarda Luigi Come se la trema Adesso trema la pedana Ok Sì tra l'altro La mia preoccupazione È che voi non la vedeste Che tremava Invece si vede Benissimo Sai cosa Aspetta Non so se Il metodo più veloce È far sì che Loro arrivino Adesso Tramite Il carrello Che si muove O si faccia prima Adesso A tornare al tubo E riprenderli Sicuramente questo È il metodo più comodo Saliamo di sopra E andiamo Al prossimo bottone Ah no I bimbi non ci arrivavano qua Stavo dicendo Ah beh potevo arrivare qua Ma loro non ci arrivavano Con un salto Uno Due Tre E quattro Wui 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 Kaboom Ottimo La pedana è apparsa Venite con noi bimbi No Vabbè Tanto Non è che cambiava nulla Ok Vieni 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 Prima che scompare Che io Allora Magari in realtà Poi non ci mette Neanche così poco Ma io mi ricordo Che Perché se lo faccio Vuol dire che succede Niente roba segreta Io mi ricordo Che se non lo prendi subito La moneta scompare Poi Tra l'altro Non dovevo Ma ho velocizzato Per Per tagliare quel pezzettino lì Io me lo ricordo Perché se Se lo faccio Vuol dire che è successo Tra l'altro Devo smetterla di velocizzare Non è che cambia nulla Se mando più veloce Di qualche istante Non è che guadagniamo secondi Fermo Ecco qua Vediamo Ah qua non c'era nulla Scendiamo Andiamo a No Andiamo a Fermo Andiamo ancora un po' giù Andiamo a destra Qua c'è un blocco Anzi due blocchi Con un guscio verde E una moneta Wow Neanche Lo spreco di energie Neanche lo spreco di benzina Che abbiamo fatto Qui però Blocco rosso Questo sicuro Non ci fa schifo Fermati un attimo Gira a sinistra Ok 3 2 1 Andate Ok Ok Calz C'era scritto calzoni goli O calzoni follia Non l'ho visto bene Sì poi è stato Un azzardo Muoversi Mentre la pedana si muoveva È stata Palesemente colpa mia Se Siamo caduti di sotto Ecco qua Altri blocchi Ma a questo giro Ci fermiamo 10 mon Lo sapevo che c'era tanto così di spazio Lo sapevo benissimo Eppure Mi sono voluto fidare Ok Questo dovrebbe essere L'ultimo blocco mancante Con Un paio di monete Niente più Niente meno Vediamo Se Qua sotto C'è ancora qualcosa No No A destra Perfetto Voi fate attenzione Che non voglio rifarmi di nuovo Il percorso Per l'ennesima volta E Finalmente Siamo ritornati all'inizio Evochiamo i bambini Eccoci Venite con noi E Finalmente Possiamo entrare Nel laboratorio Dove ci aspetta Qualcosa di inaspettato Qualcosa di grosso Ma guarda un po' È un laboratorio Noi siamo i fratelli martello Accesso vietato Noi martel Cupa Dobbiamo attaccare Gli intrusi Noi siamo Alleati Degli shrub Vi schiacceremo Come moscerini Riceviamo gli ordini Attraverso le antenne Sui nostri caschi Dobbiamo eseguire Dobbiamo eseguire Gli ordini Schiacciare Gli intrusi Voi Uguale intrusi Prepararsi Ad essere schiacciati Eccolo qua Aspirati da un naso gigante Ehi Dove li portate? Che schifo Venite qui Non ho finito Di aspirarvi Forza Mocciosi Ci sono ancora Intrusi Schiacciare Tutti gli intrusi Non ci sfuggirete Siete nostri Noi Martel Cupa Vi schiacceremo Let's go Allora Martel Cupa Tanto Valle usare I fiori Vediamo se funzionano Perché non penso Non penso che i funghi Sì i funghi Aia che male Dicevo I gusci servono a qualcosa Preso Ti sta bene Vai di nuovo di fiori È il metodo più veloce Per riuscire a colpir C'ho sperato C'ho sperato Che fossero morti A una certa Poi a me Fa male il pollice Quando faccio Ste cose qua No Nessuno dei due è morto Ok Quando perde La punta del martello Va più in alto Perfetto Ottimo da sapere Proviamo con l'indice Con l'indice Non riesco ad andare Col giusto tempismo Devo usare per forza Il pollice In questa situazione Un fungo spora Potevamo Avere di meglio Wow L'antenna è distrutta Cioè Mitico Ehi Anche la mia è distrutta Troppo bello Cioè Senti Come parlavamo Sì sì Cioè Parlavamo troppo strano Sai Credo che Dobbiamo liberare Sì sì Cioè Parlavamo troppo strano Sai Credo che ci abbia liberato Sti due Tu credi Piccoli come siete Voi ci avete liberati Esatto Troppo grandi Grazie mille Cioè Ci avete salvato il guscio Non eravamo in noi Dobbiamo troppo ringraziarvi Beccatevi i nostri martelli Di scorta Parabarabam Parabarabam Parabam 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 Così sarete martel cup Anche voi Prima però Vi insegneremo ad usarli Parabam 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 Cose diverse Cioè Fin qui Tutto chiaro Una volta cambiate le icone Col tasto R Basterà premere X Cioè Così tu Baby Mario Userai il martello Bang Potrai fare a pezzi Ostacoli Pareti E tante altre cose Provaci piccoletto Io Vi aspetterò di là Ci pensi io E' stato facile Hai visto che colpo Io spacco tutto Sono forte Ho un martello Wow Hai un talento naturale Ora vi spiegherò La seconda azione Martello Questo è troppo forte Cioè Vi permette di passare Tutte cancelle simili Come ho già detto Premendo R L'icone cambiano Premendo Y Tu Baby Luigi Sali sulle spalle Di Baby Mario Premendo il nuovo Y Non è Zzzzz Farete un buco in terra Come se fosse una trivella Cioè Trappo forte No Pam 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 Dovreste riuscire a passare Tutto questo cancello Per risalire Vi basterà Premi X o Y Andateci dentro Rock and roll Hai visto come ci muoviamo Veloci sotto terra Siamo fortissimi Che poi Esatto Basta continuare a stare Sotto terra E camminiamo Più veloci Di quanto camminiamo Dimenticavo Non potete scavare la terra Dove è duro Cioè Duro come quello qui sotto Vabbè non è un problema Basta fare così Ecco fatto Uno Due E via E cioè Fino a qui Fisci la lezione dei martelli Oh Un secondo Un'ultima dritta Quando sarete là fuori Cercate dei simboli strani Cioè Quando vedete un simbolo per terra Scavate lì E potrete risalire Salirete da sotto un simbolo E otterrete un fagiolo Se trovate molti fagioli Vi succederanno tante cose belle E questo Cioè è davvero tutto Usate i martelli per salvare i vostri due amici Rock and roll Beh dai È un buon premio aver ottenuto dai martelli No baby E facciamoci un salvataggio Oh no i bimbi sono da soli Beh siamo riusciti ad entrare dentro il laboratorio È il momento di proseguire Ma Noi ci fermiamo qui Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Siete a dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti